Prima di iniziare con il video volevo ricordarvi di passare da Moddinglandia ragazzi se volete un account moddato a bassissimo prezzo il link ovviamente è dalla pagina facebook in descrizione quindi ragazzi detto questo vi auguro una buona visione Ancora prima di iniziare con il video volevo ringraziare Hazard che mi ha fatto le nuove grafiche per il canale che ho impostato qualche giorno fa troverete il link del suo canale in descrizione da adesso e dai prossimi video e mi raccomando ragazzi passare dal suo canale perché appunto lo ringrazio quindi detto questo vi lascio al video e buona visione Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono Krix e oggi ragazzi sono qui su GTA 5 online per mostrarvi un nuovo metodo per poter fare RP infiniti velocemente con l'ultima patch rilasciata ma niente ragazzi prima di iniziare volevo invitarvi a lasciare un mi piace a questo video vediamo se ce la facciamo raggiungere i 60 like per un prossimo glitch insomma metodo per fare RP infiniti e prima ancora di iniziare volevo ringraziare Hazard che mi ha fatto la grafica per il canale ragazzi sia il logo che la grafica per il canale troverete il link del suo canale nella descrizione di questo video e niente detto questo iniziamo subito con il video per fare questo glitch tra virgolette dovrete praticamente scaricare un'attività dal social club di cui vi lascerò il link nella descrizione di questo video e quindi una volta fatto ciò come vedete dal video dovete praticamente accedere al social club quindi accedere all'attività di cui vi lascerò il link in descrizione e cliccare su aggiungi al gioco una volta fatto ciò ragazzi che avete fatto questo procedimento dovete andare in GTA online in una sessione a solo invito e invitare appunto un vostro amico perché per fare questo glitch avete bisogno di un amico quindi una volta fatto ciò dovete praticamente premere pausa andare su start online attività avvia attività preferite catture e dovete andare a scegliere la cattura che avete aggiunto recentemente quindi una volta fatto ciò che avete trovato la cattura dovete avviare la cattura una volta che avete avviato la cattura dovete semplicemente invitare il vostro amico quindi mettere su round dovete mettere insomma potete mettere quanti più round potete io comunque sia vi consiglio di mettere due round e come armi possedute più raccoglibili quindi una volta fatto ciò dovete avviare l'attività una volta che avete avviato l'attività come vedete sponerete al centro diciamo di questo punto della mappa io qui ho fatto un piccolo fail che mi sono andato a suicidare ma vabbè raga non importa comunque sia come vedete c'è praticamente il centro e ci sono le valigette accanto praticamente a questo cerchio che appunto è la vostra base quindi voi cosa dovete fare dovete praticamente prendere le valigette ne potete prendere solamente una quindi dovete andare a prendere una valigetta e consegnarla alla base non vi preoccupate per questi poliziotti in quanto si tratta di poliziotti scadenti più o meno scrausi diciamo ecco scarsi io pensavo che appunto andandoli ad ammazzare si poteva guadagnare qualche rp in più ma purtroppo ragazzi mi sbagliavo perché questi poliziotti che vedete nella cattura servono solamente diciamo a infastidirvi ecco non più di tanto comunque sia io ho fatto questo procedimento due volte mi sembra due round avevo messo e ho guadagnato in totale 1500 rp quindi consegnato ogni valigetta alla base quindi andandola a prendere e consegnare se le valigette fossero state un po' più vicino il metodo sarebbe stato un po' più veloce però vabbè raga non importa l'importante comunque sia che riuscite a fare un diciamo un buon numero di rp ecco consegnando una valigetta ragazzi sono 50 più 200 quindi sono 250 rp per volta quindi una valigetta viene 200 rp mentre andandola a consegnare appunto viene 50 rp adesso non so se è il contrario ragazzi ma penso che comunque sia è più o meno così e niente ragazzi potete fare questo procedimento tutte le volte che volete magari potete fare a turno una volta voi una volta il vostro amico insomma ragazzi potete stabilire voi come poter fare insomma questo metodo e quindi ragazzi detto questo io ringrazio maserati gt 1987 che mi ha aiutato con questo glitch troverete il suo id di playstation 4 nella descrizione di questo video e quindi ragazzi potete fare questo metodo tutte le volte che volete non vi preoccupate perché ragazzi questo metodo non c'è alcun mix di ban in quanto si tratta appunto di un metodo legale per poter fare rp e quindi ragazzi detto questo qua da cricks è tutto io vi saluto vi ringrazio troverete appunto il link dell'attività nella descrizione di questo video e niente detto questo vi invito a lasciare un mi piace per supportarmi iscrivetevi al mio canale per altri contenuti vi ricordo che in descrizione trovate facebook instagram e twitter quindi seguiremi su tutti i social commentate nella descrizione di questo video e quindi ragazzi detto questo ringrazio ancora una volta hazard che mi ha fatto le grafiche per il canale troverete il link del suo canale nella descrizione di questo video come anche appunto dai prossimi video quindi ragazzi detto questo qua da cricks è tutto io vi saluto vi ringrazio e niente noi ci vediamo al prossimo video BALAVAGGIUUUUU